Stagione, si sfidano Liverpool e Chelsea. Appuntamento da non perdere questo con il comune. Cante. 1-0, risultato che si sblocca grazie a questo gol. Abraham. Gran dribbling. C'è una buona occasione. Gol del Chelsea. Non esce mai sui ATV. Occhio qui, può concludere. E c'è il gol. Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. A spazio davanti a sé. Una grandissima arbitra che fischia la fine del match. Questa stagione, e se queste sono le premesse, Lele, sarà una grande annata per loro. Possono davvero essere protagonisti. Ma certamente, Pier. Una volta che vinci una competizione inizia a prenderci gusto. E pensi subito al prossimo obiettivo. Lo sappiamo, no? Vincere porta a vincere. Io ho la sensazione che in tempi brevi rivedremo ancora scene come questa, con gli stessi protagonisti. Anche perché vedo una squadra già affiatata, anche se lavori insieme da poco tempo. Tura Villa Parchi in attesa del calcio d'inizio. Prova il tiro. Palla in rete. È arrivato dunque il primo gol. La casetta. Finisce il match. Tre punti. Gara che promette di regalare spettacolo anche in campo, oltre che sulle tribune. Gran colpo d'occhio oggi sulle tribune di Stamford Bridge. Prova l'imbucata per il compagno. 1-0 e adesso vedremo se cambierà la partita. Porta palla. Pallone profondo, pericoloso. E c'è la rete nel Manchester City. Allontana il pericolo. Game over. Finisce in un gare. Match che seguiremo rigorosamente in diretta. Qui. Cante. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. E c'è il gol. Tocco vincente. Tapin. Dopo il mezzo miracolo del portiere sulla prima conclutetto. Grazie dell'aggiornamento. Attenzione per chi è solo. Che gol fantastico. Ha trovato la rete con una volée spettacolare. Il tuo pierre. Questo professionista se... La prende bene. E c'è il gol. Non si fermano più. E allargano ulteriormente la distanza con gli avversari. Splendida sugli spalti. Speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Tattica dell'incontro. Occhio alla conclusione. Hanno trovato subito il gol. Partita già caldissima. Alla palla buona. Ecco il gol. È la rete dei più due che dà un po' più di tranquillità. Lo supera benissimo. E con questa sono tre le reti messe a segno oggi da questo giocatore. Ma in che condizione ha dimostrato di essere. È strepitosa. Sembrano ormai... Occhio alla prossima.